Ciao ragazzi, bentornati a Open Music in 90 secondi. Il disco di cui parliamo oggi è quello nuovo, The Fall Beat, Rewind, Replay e Rebound, uscito il 2 agosto per Vertigo Records. Parliamo del settimo album della band danese, band che ormai non ha bisogno di chissà quali presentazioni, d'altro ne stiamo parlando di un gruppo ormai a livello internazionale già da diversi anni. È un album che farà un po' storcere il naso, soprattutto ai fan di primo pelo, perché vengono un po' accantonate le sonorità heavy metal dei primi lavori, e ci sono fatte per un pezzo che è The Everlasting, dove praticamente si sente ancora il mood trash della band. D'altro canto non vengono abbandonate le sonorità più rockabilly, boogie metal, al caratteristiche che comunque hanno contraddistinto la band negli anni, in particolare nei pezzi come Pelvis On Fire e Die To Live. È un disco che secondo me fa parte di un percorso artistico giusto per quanto riguarda la band e che ci sta che si dedicano un po' di più alla sperimentazione, piuttosto che tornare un po' dietro riprendendo sonorità passate. Il disco ha una valutazione di 7 birre su 10, noi lo aspettiamo il 14 ottobre a Fabrique di Milano per il loro concerto, Unica Latte Italiana, per il resto ci vediamo alla prossima volta. Ciao ragazzi!